Se fosse stata una persona avrebbe avuto 133 anni. Parliamo di Maggie, il cane più vecchio del mondo, che ha detto addio al suo padrone e alla sua cuccia domenica scorso. Il bel pastore australiano Kelpie aveva 30 anni, praticamente una vita spesa al fianco di Brian McLaren, che si è detto profondamente dispiaciuto della sua morte. Passeggiava ancora da sola la settimana scorsa, ha dichiarato il signor McLaren alla stampa locale. Ha avuto un crollo due giorni fa. Sono triste, ma sollevato che se ne sia andata così. La data di nascita di Maggie non è certa, poiché il cane ha perso ogni certificato quando era ancora un cucciolo, ma il suo proprietario ha sempre sostenuto di aver preso Maggie, quando suo fratello minore aveva 4 anni e oggi ne ha 34. Stando al Guinness dei primati, il cane più vecchio del mondo resta un altro cane pastore sempre di origine australiana, di nome Bluey, morto nel lontano 1939 a 29 anni.